Buongiorno, sono Daniela Ruffolo, dirigente scolastica della Direzione Diattica Domilani di Giffoni Vallepiana e la nostra scuola è da anni nel circuito delle scuole senza zaino, di cui qui abbiamo i due massimi rappresentanti che sono il dirigente scolastico Marco Orsi e il dirigente scolastico Daniela Pampaloni. E siamo qui perché School Experience, il progetto che è in sinergia con Giffoni Film Festival, è attivo da oggi nella scuola Domilani, momenti di incontro per la scuola, con la scuola durante il festival. Sicuramente, è un'esperienza altamente significativa, questa attenzione rivolta nel mondo del cinema, ai bambini e ai ragazzi è fondamentale, è uno strumento di espressione molto importante ed è un'esperienza ormai a livello non solo nazionale ma internazionale, per noi è fonte di grande ispirazione anche per capire, e questo pensiamo soprattutto agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, per capire proprio il mondo dell'infanzia, il mondo degli adolescenti, dei pre-adolescenti. È un'occasione anche per gli adulti di riflettere sulle traiettorie delle nuove generazioni nel terzo millennio. Noi sostanzialmente incontriamo insegnanti e dirigenti che hanno voglia di condividere con noi alcune idee, quindi nel lavoro che noi facciamo insieme proviamo ad analizzare alcuni di quelli che sono anche gli aspetti e i valori del nostro modello di scuola. Naturalmente siamo dentro un contesto culturale, un contesto che pensa e che lavora con i giovani e quindi i ragazzi, i bambini, i ragazzi e i giovani sono i protagonisti anche della nostra riflessione. Allora, l'augurio da parte mia ai Gifoners attuali a venire di aiutarci e a collaborare insieme per una comunità che sia attiva, che sia consapevole e che miri a una crescita della nostra società che sia positiva e ricca per tutti. Quindi abbiamo bisogno delle nuove generazioni e attraverso la scuola e le famiglie e la comunità intera migliorare questa nostra società che di certo non sta vivendo un momento facile. Io direi ai Gifoners e a tutti i bambini e i ragazzi che per noi è importante da una parte che ci aiutino ad ascoltarli per capire il loro mondo, ma al tempo stesso noi adulti dobbiamo dire a voi di prendere in mano il vostro destino, capire i talenti e le vocazioni che avete e farvi largo non in uno scenario individualistico, pensando solo a se stessi, non funziona così, ma crescere in una dimensione di aiuto reciproco, la dimensione di comunità a cui faceva riferimento era Daniela. Io penso che il Gifoners Film Festival sia importante perché dà stimoli di qualità non solo nel momento in cui si realizza il festival, ma è un lavoro sotterraneo e in qualche maniera a volte invisibile che dura tutto l'anno e che coinvolge e dovrà coinvolgere sempre di più anche le scuole di tutta Italia. Ecco, nella nostra rete noi terremo conto anche di questa esperienza.